Nel 2007 Cosmetic Active, che è la divisione del gruppo L'Oreal che distribuisce i propri prodotti in farmacia, ha deciso di affacciarsi al mondo del web e io ero direttore marketing precedentemente e mi è stata data questa missione e la prima cosa che abbiamo deciso di fare prima di fare cose sbagliate è stata quella di guardare che cosa c'era già nel web, sul web e ascoltare, metterci all'ascolto di chi già conosceva questo mezzo e lo utilizzava quotidianamente e quindi abbiamo iniziato con un monitoraggio di tutto quello che veniva detto sui nostri marchi Cosmetic Active, nonché sulla bellezza in generale, sulla cosmetica, per capire quali erano le domande senza risposta, quali erano i quesiti che si ponevano le consumatrici, come parlavano dei nostri marchi, quali erano i punti di forza, quali di debolezza, per capire poi secondariamente, quindi in una fase successiva, come procedere, che cosa fare sul web per rispondere a questi quesiti o per aggiustare il tiro. Dopo questo primo momento di monitoraggio abbiamo cercato di tirare un po' le fila e i risultati sono stati dei suggerimenti e degli spunti interessantissimi per tutta l'azienda, non solo per la comunicazione e il web marketing, ma per tutto il marketing, per capire anche che cosa potevamo dare di più e come potevamo rispondere alle consumatrici a questi quesiti, diciamo, irrisolti fino a quel momento. Ed è per questo che anche le attività successive sono state modificate in base a questi input. Nei nostri siti abbiamo inserito delle sezioni che non esistevano, piuttosto che abbiamo deciso poi di continuare con dei nuovi progetti sul web per iniziare veramente col web 2.0. Nel 2008 abbiamo capito che il monitoraggio non ci bastava più. Volevamo andare oltre, volevamo incontrare le persone che scrivevano di noi o non di noi, che scrivevano bene o scrivevano male, per poterle interrogare direttamente e avere con loro un confronto diretto. Non solo sono iniziati degli incontri con quelle che noi chiamiamo le forumine di cosmetica sul web o le blogger, ma questi incontri sono diventati una sorta di focus group a cielo aperto, continuo con loro, per confrontarci costantemente con degli incontri che avvengono ormai da un paio d'anni, costantemente ogni due mesi, per avere dei feedback importanti sui nostri prodotti, sulle nostre marche e per cercare veramente di coinvolgere il più possibile e di influenzare quindi gli influenzatori. L'incontro con Digital PR è stato per noi fondamentale per procedere con il nostro approccio al web. Riteniamo che solo dei professionisti e delle persone che veramente conoscono il mezzo internet possano aiutarci nel nostro mestiere, nel nostro lavoro e nel nostro ingresso nel web. Quindi ci siamo affidati a loro e ci hanno aiutato tantissimo per incontrare queste blogger e per capire quale potevano essere veramente delle nuove piste di comunicazione per il futuro. Quindi per noi sono stati veramente un partner d'eccezione.